Bella a tutti da Porkmoz, eccoci qua in questo nuovo bullying e cosa è successo al suino? Non lo so, comunque bullying infinito è stato creato da Tommy, regà. Guardate che spettacolo! Vai, una bella kill pulita, regà. Aspettate, sparo qui, no. Occhio preso, qualcuno che passava, regà, credo. Allora, mi ha detto che è a round. Quello qua al creador, perché non c'ho la maschera da suino? Dove voglio fare una bella kill? Non so, no, non ho preso nessuno. Non ho preso nessuno, regà, questa cosa. Mamma mia, è proprio infinito, eh. No, devo un attimo capire che arrivano a 2000, regà. È la miseria. E praticamente si va lì e poi si respawna su, che spettacolo. Una bella kill? Guardate, regà, voglio fare la mia kill che mi piace tanto quella. No, ce lo dobbiamo riscaldare, regà. Mamma mia. Nessuna kill, altra volta. Ho una. Niente. Aspettate, regà. Una, una la devo fare assolutamente, oh. Che scendono così velocemente che nell'altro c'era un po' più di tempo di reazione, regà. Qui. Fatta? No. Non lo so, regà. Io voglio capire perché non riesco a fare nessuna kill. Oh. Una piccola kill ce l'abbiamo, regà. Dopo 47 anni. Non so se mi conviene sparare lì o solo per terra, regà. No. Non sta a capire niente, vi giuro. Aspettate. Qui. Oh mio Dio. Preso? No. Ah, è assurdo questo bullying. No. Qui. No. Girano all'improvviso. Oh. Mettiamo un po' le kill. Una. In concreto ce l'ha tre. No. Questo che sta fermo. Ma che buono. L'ho preso, l'ho preso, ok. Siamo a due kill. A due kill ci siamo, regà. No. Questo lo prendiamo, regà. No, vedete, girano all'ultimo, quindi non posso. Non riesco a capire dove devo sparare. Non riesco. Nada. Perché c'è l'altro suino a terra lì? Non lo so. No, questo era vicino però, eh. Era abbastanza vicino. Preso, Dario e Sergio. No, ve lo farei la doppietta, regà. Pericolosissimo, eh. Molto, molto, molto pericoloso. Una bella kill per fuori. Una qui, bella. Una così. Mamma. Oh, che ha celato Gabri Mozzo. Sì, l'ho fatta finalmente. Parliamo qui. Non so se ho preso qualcuno, no. Sempre Gabri Mozzo. Nessuno. A 14 e 15. Oh, è super mega equilibrato, regà. Faremo sempre un colpettino, magari di fortuna. No, era troppo lontano. Ok, stanno scendendo, regà. No, non ho preso nessuno. No, c'è, 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 c'è. Oh. Eh, se va lì esplode, mi sa, eh. E c'è l'aria. Sì. Ok. Aspettate. Siamo qui. Non ho preso nessuno. Quanti ce ne abbiamo? Quattro. Angritte. Otto, è la miseria. Capo partita. Bravo, Giovi. Pure io una così. No, non l'ho preso, regà, ma ha narrato. Allora, manca poco, dobbiamo vincere più concentrati. No, regà, non mi è partito il colpo subito. Era una bella kill questa. No, questo no. Aiuto, aiuto, aiuto. Dove sono? Ci proviamo. Ci proviamo che non succede niente. Qualcuno sta spammando? No. L'ho preso, Caprimonzo. L'ho preso, però niente. No, non abbiamo vinto, regà. No. Ok, secondo round, regà. Sta orta con le macchine, che spettacolo. Allora. Ma voglio essere... Chi è che è esploso? Scusate. Perché? Ah, esplode in continuazione. Fat Pluto? No, c'ha uno spawn buggato, paurino. Sì, ecco perché c'era zero kill poco fa. Ma che strano. Andiamo. Quindi pure loro nella loro squadra c'hanno uno così? Non ho idea, siamo uno in meno, regà. Questa cosa non va assolutamente bene. Un po' dei miniature, regà. Oh, come scivola. Ma, 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 ma. Ci voglio credi. Volevo andare a qualcuno. Respawniamo. Ok. Vediamo quanto è veloce, regà. Mamma mia. È più veloce delle carie. Incredibile. Incredibile, regà. Allora, dobbiamo vincere, dobbiamo vincere, dobbiamo vincere. Per favore, fatemi a rari. In drift. Doppietta. No. Sì, doppietta. Doppietta, regà. Stavolta me la sento che sono il capo, capo round. Capo partita, no? Perché capo partita è quello che fa più kill di tutta la partita, regà. Il capo del round. Quanto Pluto è ancora buggato, poverino. A me saldi, sì. Oh, potremmo fare una doppietta di nuovo. Oh, regà. Quasi Shadow v'è preso. Quasi una doppietta, regà. Non dico assolutamente nada. No, qua ci mette. Ah, respawni 50. Perché sono spawnato così? Non lo so. No, non è affatto Pluto quello. Invece sì, sapete. Cioè. Sa proprio di sì. Oh, non camminiamo dritti. Poi è pericoloso una doppietta, regà. Mamma mia, Horus. È possibile pure una quadrupletta. Ma è un po' complicato, regà. Loro hanno 3 kill. Quindi è iniziato molto, molto bene il round, regà. Non c'è di spawnare. Ah, stesso spawn. Vediamo. 4 kill, sì. Oh, gli altri pure devono fare qualche kill, eh. Per favore, regà. Ve lo chiedo per favore. Horus di nuovo? No. Però ho sentito che l'ho colpito, boh. Strano, regà. Veramente molto, molto strano. Ok. Corri, corri. Troppo belli questi bullying infiniti, regà. Pavolosi. Stupendi. Allora, qua ci dovrebbe essere qualcuno che sta vicino. Preso gabri mozzo, credo. Ditemi di sì. No. Oh, regà. Ti giuro che sembrava. Perché? Perché, regà. Vabbè, siamo a 10. Oh, ingritte il capo del round, oh. Dobbiamo fare subito una doppietta, regà. Subito una doppietta. Dove sono? Sì. No? Come no, regà? Scusatemi. Non gli sono andato addosso. Perché? Perché è accaduto ciò, regà? Lo so. Già, vi è una kill. Niente. 10-10. Ora sì. Dammi. Sì, sì, sì. Perfetto. Allora, 11 kill. 11-11. O 5 minuti round, sembrava utenti. Invece sono pochissimi, regà. Contando pure i respawn. Vedete? Ogni tanto spawna veloce. Ogni tanto è più lento. Allora, 5-5 siamo, ok. Cori, corri. Dobbiamo fare... Dobbiamo stare più concentrati con l'RPG, eh. La prima cosa è che dobbiamo vincere questo round. Primissima cosa! Sì, shadow, ok. Siamo 13-13. No, 12-13, regà. Chi è che non sta facendo kill della nostra squadra, regà? Questo devo sapere. Allora. Tommy mod del creatore, nemmeno una, oh. E' un'altra cosa. 12-13. Mancano pochi secondi, dai. Doppietta qui. Ah, quasi. Doppietta. Ci voglio credi. 13-15, regà. 14-15. Grandissimo. Non so chi è stato, regà, però. Ci serve, ci serve. Chi respawna? 14-15. Siamo pure capi del round. 15-15, regà. Vi devo concentrare. Dove avere un riflesso a colpirli allucinante. Oh, mi hanno colpito, però ho colpito pure io. Ok. Perché 16-17? Ho fatto pure io la kill, regà. No, uno, uno che fa la kill. Uno, speriamo. No, l'hanno fatta loro, regà. Non ci voglio, crede. Non ci voglio, crede, regà. Niente. No. Il giocatore è più importante. Però abbiamo perso. Avviamo subito altri round, regà. Ok, regà. Ci giochiamo altri round. Subito una bella kill. Sì, Sassimoz. Perfetto. Allora. Regà, mi stava dicendo Tommy che al primo round... Cioè, avevamo fatto il punto della vittoria, ma non l'ha contato, regà. Ci voglio credere. Più, poverino, è spawnato con la macchina. Però non so se c'è l'RPG. Non posso lasciare l'RPG, Tommy. Oh, oh, oh. Aspettate, qua ci dobbiamo concentrare, che dobbiamo fare le kill. Dove essere il capo del round. Mamma mia, regà. Aspettate. No, no, io voglio sparare solamente giù. Prenderlo tipo così laterale, che è la mia kill preferita. Però tentare un colpo va bene. Però non so se fa molto tempo, regà. Mamma mia. Mamma mia, che abri mozzo. Non so dove sto sparando, regà. Non mi chiedete niente. Non mi chiedete assolutamente nada, regà. Stavo registrando sempre, sì. Uno facciamo un'altra bella killetta così precisa. Guardate, pam. No, troppo presto. Ora. No, non l'ho colpito, regà. Allora, siamo a 5. Io mi staccio 2 kill. Vediamo. Sì. Ottimo, regà. Vero, Tommy potrebbe bloccare. Aspettate. L'hanno preso, sì. No. Sembrava. Adesso ce l'hanno preso. Eh, regà. Oh, l'ha evitato. No, troppo tardi, regà. Ora. E non era esatto. Oh, ma venite verso di me se non posso fare nemmeno una kill. E si fanno tutti qua perché vedono tutti i puntini. No, non ho più concentrati, regà. Non so che me prende, ma bisogna... Anticipare meglio. Sto anticipando male. Mamma mia, che kill, regà. Preso. No. No. Donmi occhio. Preso, shadow. Ah, perché me l'hanno fregato gli altri. Dario. Ah, ok, però... Non è successo niente a me. No, regà. Sbagliato. Buono? Pensasi? No. Ma, regà. Non ci voglio credere, eh. Ho preso shadow. Non so come, che ha tirato pure nella gata, regà. Ho visto troppo lontano. Ma però belle sono state i kill fatte così. L'ho preso proprio... Preciso. Oh, ma... M'hanno colpito tipo... Tre volte, regà. No, nemmeno una. Sì, una orta è una carcassa, regà. Preso mi direi... C'è, ma io crede. Allora, questo dovrebbe essere bonito. Non dovrebbe scalare il punteggio, regà. Non dovrebbe. Ragazzi, sta orta è stravinto. Non sono il capo del round. No, no, regà. Questa era facile per me. Facile, facile. Ho fatto Pluto. Ho fatto sto belliscio. Ma favoloso. Questo liscio. Questa è mia. Sasi preso. Ok. Ok, regà. Quanto manca alla fine? Un minuto. Un minutino per fare 47 kill. Questo è buono. No. Non so chi beccherò, però... Oh, regà. Buono, Gabri Mods? No. Forse poteva essere mia la kill, ma dico poco forse. No. Le rubano subito, regà. Quello è il problema. Anche se miriamo bene... Quello è... Oh, chi l'ha preso? Sasi preso. Ok, no, io ho dato la kill perché... Dopo è avvenuta. No. Tante kill? Sei. Aspettate. Preso. Preso, 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 preso. Abbiamo stravinto. Semplicemente stravinto, regà. Questa, questa... Deve essere epica, sta kill, eh. Così. Ah, no, in drift. No! No, ce lo stavo mirando. Round vincitore. Prossimo round. Ok, secondo round. Non sono stato il capo del round, però abbiamo vinto, regà. Questo basta e avanza. Allora, Tommy che c'ha l'RPG qua. Dov'è, Tommy? No, no, tutto a posto. Tutto a posto, regà. Andiamo. Oh, questo... Ah, dietro la palla vuole andare, come i vecchi bullying. Guarda che vanno in drift. Fate Pluto! Wow, 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 regà. La nostra piccola kill ce l'abbiamo. Il mio sogno è fare una tripletta, regà. La doppietta l'abbiamo fatta tante volte, ma la tripletta nel bullying credo mai, regà. Credo mai, mai, mai. Credo? Cori, corri, corri. Uh, qua è pieno di gente. Si potrebbe avverare il sogno. No, c'è nessuno. Non so che c'era più gente, regà. Allora, gli avversari zero kill l'hanno fatto. Bello. Questa sì che è una bellissima notizia, regà. Oh. Oh. Ok. Qui, no, ce n'è solo due, due persone. Si è spenta la macchina, oh. Si è spenta la macchina. Shadow ve l'ho fatta la kill più lenta del mondo, mi sa, eh. Si. Si era spenta la macchina. La kill più lenta l'ho fatta io in questo bullying. Questa strana. Molto, molto, molto strana, regà. Allora. Più che la, più che la, più che la, più che... Oh, quanto scivola. Doryu. No, non l'ho preso. Niente da fare, regà. Ma io posso sparare il mio frontflip? No. Meglio di no. Qua c'è più gente. No, nessuno, perché mi hanno colpito, regà. Ci voglio credere. Corri, corri, corri. Cinque kill, mozzo Joey. È la miseria, capo del round, capo di tutto l'LTS. Mamma mia, che mozzo Joey che c'abbiamo. Doppietta. No, regà. Capri Mons, basta farmi esplodere. Perché stiamo pari? No, regà, la mia doppietta. La mia doppietta, regà. Guarda, stiamo stravinci. Poco fa abbiamo perso tutte e due round e qua vinceremo tutte e due round, regà. Questo è quello che conta. Doppietta, per favore. No, Sasi, c'era un altro vicino, regà. C'era uno vicino, non ci voglio credere. Corri, corri, corri. Oh, aiuto. Aiuto, regà. Guardate. Sasi, preso, preso. Non so come, ma l'ho preso. Mo... Mo vediamo un attimo le kill. Quattro kill. Oh, quasi capopartita. Jovi si è fermata a cinque. Corri, 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 corri. Corri, corri, corri. Ci vorrebbe una tripletta e non mi recupera più nessuno, poi. No, che cosa è successo? No! Cosa è successo, regà? Non chiedetevi niente, per favore. Comunque stanno a recuperare, eh. Cioè, fanno attenzione. Facciamo molta, ma molta. Attenzione. Corri, corri, corri. Gente che sta vicino. Ah, l'hanno solo preso, regà. Vediamo come è messa... La situation, regà. Sei kill per Jovi. Due, due mi servono. Dai, corri, corri, corri. Poco fa erano vicini, però, eh. Qua c'è un bel po' di gente vicina. No, regà. Vabbè. Puntiamo la vittoria. Che dite? Allora, sei e sei, quattro e quattro. Do, mi mod tre. Il creador, dai, creador. Guardate. Regà, non sto più a concentrare. Vabbè che si vedono verso la fine i giocatori, eh. Nei bowling, però. Dove essere più attento a guardare la minimappa, regà. Guardate quanti bei puntini che ci stanno sotto. Oh, 22 kill, stanno loro cosa? No. No, 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 regà. Non dobbiamo scendere. Salvo il round. Lo salvo, l'ho salvato, regà. L'ho salvato, l'ho salvato, l'ho salvato. Non mi ha dato la kill, non mi ha dato la kill. Vabbè, abbiamo stravinto. Non lo so chi l'ha salvato, ma uno ha fatto tipo tripletta. Mi sa perché eravamo... Bravo Mozzogiovi, partirei vincitore. Se vi è piaciuto questo bowling infinito spettacolare di Tommy, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. E noi ci becchiamo al prossimo video. Bella.